Per uscire dalla gabbia, devi prima entrarci. Adesso, signori, un incontro straordinario, davvero emozionante. Una Milano che non avete mai visto. O che non volete vedere. Mal, guardami. Perché sei qui? Te lo dico io. Sei qui per te, non per tuo figlio, non per me. E nemmeno per la tua fottutissima vita. Sei qui per te, Al. Di gli abbi sarai solo. Perché tu, peggior nemico, la causa di tutto, sei tu, Al. Tratto dalla storia vera di Alberto Lazio. Bisogna di padre. Di un padre, sì. Non dire. Se abbandoni le persone a cui vuoi bene, la colpa è la tua. Non mi deludere. Mi dà i soldi adesso. Però quanto tu oggi si faccia c'hai, non ho male contro il lavoro. Adoro il sintetico, cazzo. Cioè, più è mezzo di laboratorio, più gli piace. Non c'è più la droga di una volta. Garantisci tu? Perché ammazzare uno che c'ha le palle quando potrà lavorare per me? Il primo film con il finale scritto dalla verità dell'incontro. Milano, mi è un po' stancato. Milano in the cage. Che cazzo è questa storia che tu facevi la puttana nella mia demille? Ma vaffanculo. Dal 18 maggio al cinema.